Di Honoré de Balzac, Eugénie Grandet, voce di Lorenzo Pieri, capitolo ventiduesimo «Come mai, Nanon?» disse una sera Eugénie coricandosi, «non mi ha scritto una volta in sette anni». Mentre a Saumur accadevano queste cose, Charles faceva fortuna nelle Indie. Innanzitutto era riuscito a vendere bene la sua pacottiglia. In breve tempo aveva realizzato una somma di 6.000 dollari. Il battesimo dell'Equatore gli aveva fatto perdere molti pregiudizi. Si rese conto che il modo migliore per raggiungere la ricchezza nelle regioni equatoriali, come del resto in Europa, era quello di acquistare e vendere uomini. Andò così sulle coste dell'Africa e fece la tratta dei negri, unendo al commercio d'uomini quello delle mercanzie più vantaggiose da scambiare sui diversi mercati dove lo portavano i suoi interessi. Si dedicava agli affari con un impegno che non gli lasciava un momento libero. Era ossessionato dall'idea di riapparire a Parigi nello splendore di una immensa ricchezza e di conquistare una posizione ancora più brillante di quella dalla quale era precipitato. A forza di frequentare uomini e paesi, di osservarne i costumi contrastanti, le sue idee si modificarono ed egli diventò scettico. Non ebbe più un'idea precisa sul giusto e l'ingiusto, vedendo reputare crimine in un paese ciò che era virtù in un altro. Sempre a contatto con l'interesse, il suo cuore si fece gelido, chiuso, arido. Il sangue dei grande non mentì. Charles diventò duro, avido di guadagni. Vendette cinesi, negri, nidi di rondine, bambini, artisti, praticò l'usura in grande. L'abitudine a frodare i diritti di Dogana lo rese meno scrupoloso sui diritti degli uomini. Andava a Saint-Thomas a comprare a basso prezzo le merci depredate dai pirati e le portava sulle piazze dove scarseggiavano. Se la nobile pura immagine di Eugénie lo accompagnò durante il primo viaggio, come l'immagine della vergine che i marinai spagnoli collocano sulle navi, e si attribuì i primi successi alla magica influenza dei voti e delle preghiere di quella dolce fanciulla, più tardi, le negre, le mulatte, le bianche, le giavanesi, le almee, le orge di ogni colore e le avventure che ebbe in diversi paesi cancellarono completamente il ricordo della cugina, di saumur, della casa, della panchina, del bacio carpito nel corridoio. Ricordava solo il giardino chiuso da vecchi muri, perché lì era incominciato il suo rischioso destino, ma rinnegava alla famiglia. Lo zio era un vecchio cane che lo aveva derubato dei gioielli. Eugénie non occupava né il suo cuore né i suoi pensieri, occupava solo un posto negli affari come creditrice della somma di 6.000 franchi. Questo genere di vita e queste idee spiegano il silenzio di Charles Grandet. Nelle Indie, a Saint-Oman, sulla costa dell'Africa, a Lisbona e negli Stati Uniti, lo speculatore aveva assunto, per non compromettere il suo nome, lo pseudonimo di Sefer. Charles Sefer poteva senza rischio mostrarsi ovunque infaticabile, audace, avido, come un uomo che, deciso a fare fortuna qui buscunque vis, abbia fretta di finirla con l'infamia per rimanere un onestuomo durante il resto dei suoi giorni. Con questo sistema, la sua fortuna fu rapida e brillante. Nel 1827, quindi, tornò a Bordeaux sul bel brigantino Marie-Claolin, appartenente a una ditta commerciale realista. possedeva 1.900.000 franchi in tre solidi barili pieni di polvere d'oro, dalla vendita dei quali a Parigi contava di guadagnare un 7 o 8%. Su quel brigantino viaggiava anche un gentiluomo, onorario di camera di sua maestà, il re Carlo X, messier Dobrion, un buon vecchio che aveva fatto la sciocchezza di sposare una donna di mondo e il cui patrimonio era nelle Antille. Per sopperire alle prodigalità di Madame Dobrion, era andato a vendere i suoi terreni. Messier e Madame Dobrion, della casa Dobrion di Bouc, il cui ultimo signore era morto prima del 1789, ridotti ad una ventina di migliaia di lire di rendita, avevano una figlia piuttosto brutta, che la madre voleva maritare senza dote, poiché le sue entrate le consentivano a mala pena di vivere a Parigi. Era un'impresa il cui successo sarebbe sembrato problematico a tutte le persone di un certo ambiente, malgrado l'abilità che si attribuisce alle donne di mondo. Perciò la stessa Madame Dobrion quasi disperava, guardando la figlia, di riuscire ad affibbiarla a qualcuno, fosse anche un uomo con la mania della nobiltà. Mademoiselle Dobrion era una signorina lunga, magra, gracile, con una bocca sdegnosa, sulla quale scendeva un naso troppo lungo, grosso in punta, colorito allo stato normale, ma completamente rosso dopo i pasti, una specie di fenomeno vegetale che era tanto più sgradevole in quanto quel naso si trovava in mezzo ad un viso pallido e annoiato. Insomma, Mademoiselle Dobrion era come poteva desiderarla a una madre di 38 anni che, ancora bella, continuava ad avere delle pretese. Ma per controbilanciare simili svantaggi, la Marchesa Dobrion aveva dato alla figlia un'aria molto distinta. L'aveva sottoposta ad un regime che per il momento conservava il naso su una gradazione di colorito ragionevole. Le aveva preso l'arte di abbigliarsi con gusto, l'aveva dotata di modi piacevoli, le aveva insegnato quegli sguardi malinconici che interessano un uomo e gli fanno credere di essere sul punto di incontrare l'angelo vanamente cercato. Le aveva mostrato come muovere il piede per farne ammirare la piccolezza nel momento in cui il naso aveva l'impertinenza di arrossire. Insomma, Madame Dobrion aveva fatto sulla figlia un buon lavoro. Grazie a maniche larghe, corsetti mentitori, abiti gonfi e ben guarniti e a un bustino strettissimo, ella aveva ottenuto dei prodotti femminili così insoliti che per l'istruzione delle madri avrebbe dovuto esporli in un museo. Charles si legò molto a Madame Dobrion precisamente come Madame Dobrion voleva legarsi a lui. Molte persone sostengono addirittura che durante la traversata la bella Madame Dobrion non trascurò alcun mezzo per catturare un genero così ricco. Quando sbarcarono a Bordeaux nel giugno del 1827 Messier, Madame e Mademoiselle Dobrion e Charles scesero nello stesso albergo e partirono insieme per Parigi. Il palazzo Dobrion era pieno di ipoteche, Charles doveva liberarlo. La madre aveva detto che sarebbe stata felice di cedere il suo piano rialzato al genero e alla figlia. Non condividendo le fisime di Messier Dobrion sulla nobiltà, ella aveva promesso a Charles Grandet di ottenere dal buon Carlo X un'ordinanza reale che lo autorizzasse lui, Grandet, a portare il nome Dobrion, a prenderne il blasone e a succedere in cambio della costituzione di un maggiorasco con 36.000 lire di rendita a Dobrion nel titolo di signore di Buch e marchese Dobrion. Riunendo le loro fortune, vivendo in buon accordo, grazie ad alcune sinecure si potevano mettere insieme a palazzo Dobrion oltre 100.000 lire di rendita. E quando si hanno 100.000 lire di rendita, un nome, una famiglia, quando si va a corte perché io vi farò nominare gentiluomo di camera, si diventa ciò che si vuole, diceva Madame Dobrion a Charles. Perciò potrete diventare a vostra scelta relatore al Consiglio di Stato, prefetto, segretario d'ambasciata, ambasciatore. Carlo X ama molto Dobrion, si conoscono fin da bambini. Inebriato di ambizione da questa donna, Charles, durante la traversata, aveva carezzato tutte queste speranze che gli erano state presentate da una mano abile e sotto forma di confidenze da cuore a cuore. Convinto che gli affari di suo padre fossero stati sistemati dallo zio, si vedeva installato nel Faubourg Saint-Germain, l'aspirazione di tutti, dove all'ombra del naso paonazzo di Mademoiselle Mathilde sarebbe riapparso quale Conte Dobrion. Esaltato dalle fortune della restaurazione che aveva lasciato vacillante, conquistato dallo smalto delle idee aristocratiche, la sua ebbrezza cominciata sul battello continuò a Parigi, dove decise di fare il possibile per arrivare a quell'alta posizione che la suocera egoista gli faceva intravedere. Sua cugina non era quindi per lui che un punto nello spazio di questa brillante prospettiva. Rivide Annette, da donna di mondo, Annette gli consigliò vivamente di contrarre quel matrimonio e gli garantì il proprio appoggio in tutte le sue ambiziose imprese. Annette era felice di far sposare una signorina brutta e noiosa a Charles che il soggiorno nelle Indie aveva reso molto seducente. Il colorito era più abbronzato, i modi erano diventati più decisi, arditi, come lo sono quelli degli uomini abituati a risolvere, a dominare, a riuscire. Charles respirava meglio a Parigi vedendo che poteva sostenervi un ruolo. De Grosson, avendo saputo del suo ritorno, del suo imminente matrimonio, della sua ricchezza, andò a trovarlo per parlargli dei 300.000 franchi con i quali avrebbe potuto saldare i debiti del padre. Trovò Charles in compagnia del gioielliere al quale aveva ordinato il regalo di nozze per Mademoiselle Dobrion e che era venuto a fargli vedere i disegni. Malgrado i magnifici diamanti che Charles aveva portato dalle Indie, le montature, l'argenteria, i gioielli solidi e futili della giovane coppia aumentavano a più di 200.000 franchi. Charles ricevette De Grosson che non riconobbe con l'impertinenza del giovane di mondo che nelle Indie aveva ucciso quattro uomini in quattro differenti duelli. Monsieur De Grosson era già venuto tre volte. Charles lo ascoltò con distacco, poi gli rispose senza aver ben capito ciò che gli aveva detto «Gli affari di mio padre non sono i miei. Vi sono obbligato, signore, per l'interesse che vi avete dedicato ma del quale non posso approfittare. Non ho messo insieme col sudore della fronte quasi due milioni per gettarli in pasto ai creditori di mio padre. E se di qui a qualche giorno il vostro signor padre fosse dichiarato fallito? Signore, di qui a qualche giorno io mi chiamerò Conte Dobrion. Capite bene che la cosa mi sarebbe del tutto indifferente. Del resto voi sapete meglio di me che quando un uomo ha centomila lire di rendita suo padre non fallisce mai», aggiunse spingendo cortesemente il signor De Grosson verso la porta. All'inizio del mese di agosto di quell'anno Eugénie era seduta sulla panchina di legno dove il cugino le aveva giurato eterno amore e dove ella veniva a fare colazione quando era bel tempo. La povera fanciulla si compiaceva in quei momenti nell'aria fresca e lieta del mattino di riandare con la memoria ai grandi ai piccoli avvenimenti del suo amore e alle catastrofi che lo avevano accompagnato. Il sole rischiarava il bel muro tutto crepato quasi in rovina che per ordine della bizzarra ereditiera non si poteva toccare anche se Cornoyer ripeteva spesso alla moglie che prima o poi qualcuno ci sarebbe rimasto sotto. In quel momento il fattorino della posta bussò consegnò una lettera a madame Cornoyer che andò in giardino gridando signorina una lettera la porse alla padrone dicendole è quella che aspettavate queste parole risuonarono con tanta forza nel cuore di Eugénie da eccheggiare davvero fra le mura del cortile e del giardino Parigi è sua è tornato Eugénie impallidì e per un momento tenne fra le mani la lettera senza aprirla era troppo turbata per riuscire a dissuggellarla e a leggerla la grande Nanot rimase in piedi le mani sulle anche e la gioia sembrava le uscisse come una fumata dalle pieghe del volto Bruno avanti leggete signorina Nanot perché torna a Parigi quando è partito da Saumur leggete e lo saprete Eugénie aprì la lettera tremando ne cadde un mandato sulla banca Madame de Grosson e Corré di Saumur Nanot lo raccolse mia cara cugina non sono più Eugénie pensò lei e sentì una stretta al cuore apprenderete mi dava del tu incrociò le braccia senza aver più la forza di leggere mentre gli occhi le si riempivano di lacrime è morto chiese Nanot non avrebbe scritto disse Eugénie e lesse tutta la lettera che segue mia cara cugina apprenderete credo con piacere il successo delle mie imprese voi mi avete portato fortuna sono tornato ricco e ho seguito i consigli di mio zio ho appena appreso da Monsieur de Grosson la notizia della sua morte e di quella della zia la morte dei genitori è nell'ordine naturale e a noi tocca succedergli spero che ormai vi siate fatta una ragione niente resiste al tempo io ne sono una prova sì mia cara cugina purtroppo per me il tempo delle illusioni è passato che volete viaggiando attraverso molti paesi ho riflettuto sulla vita sono partito che ero un ragazzo ritorno uomo oggi penso a molte cose alle quali un tempo non pensavo voi siete libera cugina e io sono ancora libero nulla impedisce in apparenza la realizzazione dei nostri progetti ma sono troppo leale per nascondervi la mia situazione non ho dimenticato che non mi appartengo mi sono sempre ricordato durante le mie lunghe traversate della panchina di legno e Geni si alzò come se fosse stata su dei carboni ardenti e andò a sedersi sui gradini del cortile della panchina di legno sulla quale abbiamo giurato di amarci per sempre del corridoio della sala grigia della mia camera nella mansarda e della notte in cui con delicatezza mi avete reso più facile l'avvenire sì questi ricordi mi hanno dato coraggio e mi sono detto che voi pensavate sempre a me come io pensavo a voi nell'ora stabilita fra di noi avete guardato le nuvole alle nove sì vero perciò non voglio tradire un'amicizia che per me è sacra no non devo ingannarvi si tratta in questo momento per me di un'unione che soddisfa tutte le idee che mi sono fatto sul matrimonio l'amore nel matrimonio è una chimera oggi l'esperienza mi dice che bisogna sottostare alle leggi della società e riunire nel matrimonio tutte le convenienze volute dal mondo ora c'è fra noi una differenza d'età che forse potrebbe pesare di più sul vostro avvenire cara cugina che sul mio non voglio parlare dei vostri costumi né della vostra educazione né delle vostre abitudini che sono quanto mai lontane dalla vita di Parigi e non si accorderebbero per nulla con i miei progetti ho in mente di tenere un elevato tenore di vita di ricevere molta gente e credo di ricordare che voi amate una vita dolce e tranquilla no sarò franco e lascerò a voi giudicare la mia situazione avete diritto di conoscerla e di giudicarla oggi possiedo 80.000 lire di rendita questa fortuna mi permette di imparentarmi con la famiglia d'Obrion la cui erede una giovane di 19 anni mi porta in dote il suo nome un titolo la carica di gentiluomo onorario di camera di sua maestà e una posizione fra le più brillanti vi confesserò cara cugina che non amo affatto mademoiselle d'Obrion ma con questo matrimonio assicuro ai miei figli una posizione sociale i cui vantaggi saranno un giorno incalcolabili le idee monarchiche riacquistano sempre più favore perciò fra alcuni anni mio figlio divenuto marchese d'Obrion con un maggiorasco di 40.000 lire di rendita potrà prendere nello stato quel posto che riterrà più conveniente abbiamo il dovere di pensare ai nostri figli vedete cugina mia con quanta schiettezza vi espongo lo stato del mio cuore delle mie speranze della mia fortuna è possibile che da parte vostra voi abbiate dimenticato le nostre puerilità dopo sette anni di lontananza io non ho dimenticato né la vostra indulgenza né le mie parole me le ricordo tutte anche quelle dette con leggerezza alle quali un giovane meno coscienzioso di me con un cuore meno giovane e meno onesto non dedicherebbe nemmeno un pensiero dicendovi che intendo solo fare un matrimonio di convenienza e che mi ricordo ancora dei nostri amori da ragazzi penso di rimettermi interamente a vostra discrezione di rendervi arbitra della mia sorte e di dirvi che se dovessi rinunciare alle mie ambizioni sociali mi contenterei volentieri di quella pura e semplice felicità di cui mi avete offerto immagini tanto toccanti tan 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 aveva canticchiato charles grande sull'aria di non più andrai mentre firmava vostro devoto cugino charles per mille fulmini questo significa comportarsi bene si disse poi aveva preso il mandato e aveva aggiunto queste righe ps unisco alla lettera un mandato sulla banca de croissant di 8000 franchi all'ordine vostro pagabile in oro e comprendente capitale e interessi della somma che avete avuto la bontà di prestarmi aspetto da bordo una cassa contenente degli oggetti che mi permettete di offrirvi a testimonianza della mia eterna riconoscenza potete spedirmi con la diligenza il mio necessaire a palazzo d'obrion rue hilleron bertan con la diligenza disse genie una cosa per la quale avrei dato mille volte la vita